del Catania sembra un anime, vendete la società e vendetela bene per ricominciare a farci sognare. L'odissia della squadra etnea, tra commissari e tribunali, certo così non appassiona e a far mancare lo spettacolo negli ultimi due mesi si è messo pure il covid, con il lockdown anche per gli stadi. Ma adesso che si avvicinano i possibili play-off, i cuori rossazzurri tornano a scaldarsi e chiedono risposte. I prossimi passaggi per il nuovo amministratore unico Gianluca Storina sono chiari e in qualche senso pure obbligati. Appena avute le carte il tribunale analizzerà l'offerta di 54 milioni presentata dalla Sigi, unica cordata per ora concorrente, e poi si aprirà la procedura competitiva per la vendita. Ulteriori 60 giorni nei quali la finaria potrebbe far spazio a un nuovo socio forte. Sul web è rimbalzato il nome del patron della Lazio Lotito, ma appunto resta soltanto un'ipotesi. Quanto ai play-off, la partecipazione verrà decisa in base ai protocolli elaborati dalla Lega Calcio, sempre che il Consiglio federale, nella riunione del 5 giugno, dia effettivamente il disco verde e la ripresa delle partite.